Ciao ragazzi, il giro di oggi prevede come tappa il parco dell'Ura. Passeremo quindi dal parco delle corane e faremo il ritorno verso Cermenat e l'entrata sul seizo. Il giro è di circa 35-36 km con poco di slivello. Si parte! Cappella Santana Cappella Santana eccoci qua tu mi vuoi mandar tu mi vuoi mandar qua dentro nell'acqua c'è un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non salgo a 14, però... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.